Il mancato intervento in Siria contro Daesh fin dall'inizio è stato giustificato dal fatto che si vedeva quell'elemento, quell'attività svolta dai terroristi, dagli appartenenti al gruppo di Daesh come un elemento anti-Assad e quindi diciamo così come un elemento di comodo perché aiutava la volontà di un certo tipo di formazioni occidentali, quindi paesi occidentali, di abbattere il regime di Assad e quindi si è stati molto tiepidi proprio per questo motivo, perdendo tempo prezioso. La seconda, e lo dico con la mare in bocca perché proprio oggi ho parlato con un collega francese che era in visita a Roma, il quale mi chiedeva le ragioni della timidezza del nostro paese, cosa che ad esempio non ha dimostrato la Germania, non parlo dell'Inghilterra o degli Stati Uniti, nel intraprendere un'azione più decisa, nel fare una scelta di campo precisa, nel adottare una scelta che io penso possa essere condivisa dalla maggior parte dei cittadini del nostro paese e anche dei cittadini occidentali nel loro complesso perché si tratta di difendere dei valori che stanno a cuore a tutti e io credo che questa timidezza sia difficile da giustificare come del resto io mi sono trovato nella difficoltà di spiegare questa posizione del governo che io non condivido a questo collega francese.